Ed eccoci qui a questo breve corso su Layout. Bisogna subito dire che Layout è un programma, un programmino più piccolo rispetto a SketchUp che è presente soltanto nella versione di SketchUp Pro. Quindi le versioni passate di SketchUp Make 2017, 2016 eccetera non possono averlo, soltanto le versioni Pro. Ma come sappiamo dal 2018 non esiste più la versione libera di SketchUp che si chiama appunto SketchUp Make ma hanno fatto la nuova versione online di SketchUp Free. Se voi digitate qua su un motore di ricerca All Download SketchUp, clicchiamo sul primo sito ed ecco che qui abbiamo la pagina con tutti i programmi scaricabili appunto di SketchUp. Come vedete in tutte le lingue possiamo scaricarlo SketchUp Pro in versione per Mac, Windows a 6432 nel caso del 2016 ma come appunto abbiamo appena detto il Make si ferma al 2017. SketchUp Pro 2017 e SketchUp Pro 2018 entrambi hanno il Layout, ovviamente anche il 2016. La versione che vi scaricate da questo tasto, qua siamo sul Mac, passiamo su Windows che è quello su cui facciamo il corso. La versione Pro 2018, 2017 o 2016 è una versione che dura 30 giorni, assolutamente completa ma appunto con questo limite temporale. E in questo limite temporale sarà ovviamente fruibile anche Layout e Style Builder che è un terzo programmino che serve per gestire completamente tutti gli stili di linea. Ma veniamo a Layout. Allora, innanzitutto bisogna dire che Layout è un software che si utilizza alla fine della modellazione 3D fatta su SketchUp. Quindi è il mio software che serve per confezionare, diciamo così, per presentare il mio prodotto appunto finito, terminato in 3D su SketchUp. E ho due modi per presentarlo. Una presentazione classica tipo proiezione oppure un altro tipo di modo di presentazione che è appunto la pubblicazione e quella cartacea. Infatti, appena apro Layout, ecco che mi appare subito questa finestra che mi chiede in quale formato voglio iniziare il mio progetto. Il mio progetto grafico, il mio progetto di stampa, in questo caso da per scontato la stampa finale. E vedete che raccoglie gli A3 o gli A4, quindi i formati foglio uni, A3, A4, orizzontale, verticale, quadrettato oppure no. Partiamo tranquillamente dall'A3 orizzontale, apro e se volessi cambiare il mio formato del foglio, vado su File, Impostazione documento e vado su Foglio. Qui ho appunto, come appena selezionato, A3, dimensioni anche lì personalizzabili, orizzontale, verticale. Volendo io posso anche andare a settare A2, A1 o A0, come appunto progetto foglio di stampa, oppure, come appunto detto prima, anche soltanto delle dimensioni personalizzate. Quindi io ho questo spazio, questo foglio bianco, sul quale io posso inserire diversi oggetti, tra cui quelli che posso creare direttamente sul layout, che sono pochi in realtà e servono a livello di grafica per la comunicazione appunto del progetto, quindi linee, geometrie, cerchi, archi, poligoni e tabelle, quote e note e anche, vabbè, testo. Quindi le opzioni e i comandi sono veramente pochi qui sul layout, ma vedremo ben presto che tutto il grosso del lavoro si farà sui pannelli laterali a destra.